fai combattere la lottatrice il no face più popolare contro la lottatrice più popolare questa roba è facile è normale blocca campione impedisce a un brand rivale di far di fare competere un suo campione nello show della prossima settimana cazzo che ricompensa almenia tra l'altro quindi mantieni la promessa puttana evo no infortunato una settimana quindi usa riabilitazione 1 ma faccio uscire e usa la riabilitazione 3 per eddie guerrero non puoi usarle tutte e due non puoi usarle ma faccio uscire b no sì ok quindi puoi fare l'opener che dice l'amico ma posso fare anche no non puoi usare tutti e due non puoi fare la prova ma non tra la no infatti non me la dai fai a no non me la dai a no no ma come è possibile fai anche arena gratuita ma come non andava ne ho due perché ne ho due no una pubblicità ah arena gratuita ma dai figa dai eroe inutile tutti i giochi è sfavorito faccio anche pubblicità gratuita cazzo devi qualcosa per settimana prossima quindi in realtà due match li hai già belli pronti che non mi ricordo più cosa sono però nel l'obiettivo di triple age obiettivo di triple age nel main event e nella match iniziale fai ancora tag team taker e kain contro chester e roman reigns quella con la campionessa con la no devi mettere quella con maggior popolarità il che non è per forza la campionessa e chi è che ha la la donna più fa chi è becky lynch becky lynch e l'altra è charlotte no charlotte vai giù non ne avevi quattro te no sono in ordine di popolarità becky e charlotte sono quelle più su e ti va anche bene perché non sono neanche no è sono in rivalità no è mi saltano le rivalità non saltano le rivalità rimangono livello 3 rimangono livello 3 posso fare però coppia io e non so se va bene perché si va bene prova ci faccio le vedi e se ti dà l'obiettivo ok quindi e fallo titolato e non so se faccio coppia no in coppia no l'amico north qua se la north sniper se la prende io l'ascolterei fra i titolato addirittura farei un match non normale non normale vero però non mi ricordo in cosa sono specializzate loro devo andare a vedere dove ma lui ti dice se vuoi stare più popolare non quella femminile se no femminile rotatrice è femminile femminile l'ha detto lo faccio a vedere la carta del dei lotatori cioè voglio vedere lei come faccio a vederla è tutto lì non posso entrare no li può solo voglio vedere è tutta la sua tabella quella cazzo c'è 3 e 9 6 energia voglio sapere i suoi match specialistici cosa sono specialista i match in cui può lottare non si è mai visto la prova ci sono lì devi scoprirlo tu però è specialità match table ah dove l'hai detto dove c'è specialità match ok vedi però fai specialità becchi allora per tutti vorremmo entrare dentro non ce l'ha quindi va bene non lo so sinceramente ok va bene facciamo un po di logistica allora ti ha dato disponibile per l'acquisto anche l'ultimo che è sempre sbloccato figa però dovrebbe essere gratis ma no per comprarlo non spagarlo vedi queste sono però allora non comprare vedi che quelle lì sono tutte gratis adesso posso scegliere quella più cara è questa per forza esatto thunderdome ragazzi però potevo tenermela per reslamania e ormai l'ho usata cazzarola vedi almenia mi devo farla in sala concerti magari non liceo avresti almenia avrai un sacco di soldi poi arrivare a dire devi andare a destra sicuramente o no una superstar preferita a destra adesso te lo dà ah perché ne manca uno perché non me l'ha preso subito in coppia ma mi ha capito me li ha dati subito ma che testa perché non c'è roman reigns ecco perché non me lo dava strano eddie guerrero te lo dà e roman reigns no incredibile allora abbiamo fatto quello sbagliato allora l'ha infortunato di due no l'abbiamo fatto quello sbagliato no probabilmente era infortunato più di una settimana manca ancora una settimana tu gli hai tolto una settimana roman reigns ma eddie guerrero gli hanno fortunato tre settimane e li hai tolto di tre non gliel'ho tolta e a roma evidentemente non era infortunato di uno ma di due e allora non posso fare quel match ma è tenere un altro ma la coppia era quella lì ormai non può lottare se ma energia zero eddie effettivamente quanto mai si è infortunato roman reigns ha mandato in pappa il cervello di pepino figa non so più fare uno show senza roma vai vai fatti così raghi tolmi passa veramente la voglia di farla arena thunder da un zero vabbè la parte divertente sarà solo quella vaffan cu cu adri lì i due stronzii vaffan cu i due stronzii adri lì ehi apprezzo che tu mantenga le promesse quanto mai l'ho mantenuta cristo mi hanno fatto schifo e hanno stato di tenere me il rematch contro booker t ha voleva rematch contro booker non era per vabbè la colpa è solo mia pensavo che stessimo collaborando per battere smackdown ma dopo questa interferenza non ne sono più tanto sicuro ad a booker comincio a pensare che non ti interessi molto delle mie esigenze dai ti ho appena dato 100 mila dollari scusami non aveva più le gambe chiede jack posso riscattare il tuo main event la settimana scorsa ti ho fatto fare quattro stelle ma perché riscattate solo con me e non con me cazzarola riscattate riscattate con lui vai vai che vedo che prima al main event ha fatto favore riscattalo ma te lo faccio fare la prossima volta questo lo faccio io a wrestling mania così si rovina riscattalo non aveva più le gambe ma farà il main event di settimana prossima e invece vuoi riscattare dopo che è finita questa settimana sei libero di farlo col cazzo lo inserisco col cazzo ma puttana eva devo anche inserire interferenza sì però manteniamo un certo tono non incazzarti perché mi fai fare due stelle col cazzo lo inserisco è bella non aveva più le gambe vorrebbe fare il tuo main event settimana prossimo poi riscattarlo non lo so perché ci si si riscatta 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 fategli fare un mess della merda che mando anche lo mando anche alla spa che aveva fatto fare quattro stelle comunque e lo so grazie però voglio gestirlo io questo show ti fa fare quattro stelle allora vediamo raggiarla niente ma io l'ho già fatto il miglior fai match iniziale carmella contro bianca belere nel mid metti match con interferenza che fa scendere le stelle casso è facile ma se metto carmella contro bianca quella rivalità lì ha rotto mi fa una stella mi fa inseriscila nel mid car dicono interferenza dicono giusto e allora fai carmella e bianca nel mid car con l'interferenza così è disastroso vai vai lui sei sicuro che lì non sbagli più la curva ma scusatemi è perché non mi ha dato la carta triple h perché non hai fatto l'obiettivo quello scorso ma avevo fatto l'obiettivo non so neanche che carta era era la carta verso la luna e anche le carte mi danno non avevi fatto l'obiettivo ma va ecco ma che obiettivo era quello di far lottare quello con popolarità minore e forse tu hai sbagliato forse era kate lee no dovevi fare lottare quello con la popolarità maggiore che era kate lee no popolarità maggiore era carmella bianca con la popolarità minore e non l'ho fatta lottare non avevi messo bianca eccola la puttana e ho speso ha speso quest'uomo ma per vincere si fa questo ed altro io invece l'arena l'ho spesa gratis ho speso pronti 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 dai schissa chissà confermato raccontaci la carta di smackdown vabbè la carta sempre quella ragazzi c'è poco da raccontare abbiamo la coppia teccare cane contro doveva essere sister e range ma range è infortunato è stato sostituito all'ultimo momento da fin ballo io non dico più niente voglio vedere una sticata pronostica dai anche ancora loro e vincerà mai c'è attenzione e cominciamo bene perché vediamo un decente edi che fa un po di promozione avendo solo sei di energia non lotta questa settimana bene 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 abbiamo med card è qua stroma anche ha rotto le bale perché voleva far qualcosa contro biggie biggie è mediocre dai che ci siamo dai il main event è bello la pubblicità di sascia sascia è il main event time main event charlotte per il titolo è stato scelto da uno di voi e charlotte contro becky e in un tra l'altro è un table match che è caratteristico di charlotte qua ospite direi charlotte e perché aveva 80 di energia contro 30 ma chi è il gm dall'anno in questa ma c'è poco da dire ma sono curioso di vedere la carta di vediamo vediamo dai dai di questo qua non tutto è perduto fidati parte che questa settimana vinci tu no guarda mediocre c'è brock lesnar e mediocre vai vai buker t e marfi sono stanchissimi contro marf e contro walter e brock lesnar bene mediocue mediocue ragazzi apertura scarsa ma chi è quello qua e adesso su con me car che il match di coppia vai dai che non è ancora finito dai catti di merda perché ti ho comprato dio buker t è il suo peggiore anche in tutte le sue gm buker t è sempre la e ogni volta lo compro è la sua bestia nera non per il colore ma proprio perché adellà 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 e sale le curva sale 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 sì c'è ho fatto l'interferenza adesso mi fa tre è perché hai fatto l'interferenza ha ragione ha ragione non aveva più le gambe dovevi fargli scegliere il match e guarda il main event adesso come va giù anche lui perché è mediocre eccellente però perché c'è scottol scottol non fa mai dei match vedrai guarda scottol non fa mai dei match ha pure vinto è qui è qui però scresce cazzo parta un po' malino vuol dire che scelta aumenta e qui ottima organizzazione ma dov'è il grafico scarsa finale destra per shoot il danato opener è andato una merda si è creata la rivalità è under taker kane cister ballor questo match va avresta almenia di roma range chester va avresta almenia qualità show d match b più 3 quanti soldi che ha smackdown adalà anche che chi è mai fanno non sta prendendo molto però è aumento di di budget ragazzi ma fancuno hai preso blocca campione c e c e ragazzi però più 14 vuoi fare però è ancora è ancora primo smackdown pochi soldi tu tu hai pochi soldi devo recuperare 400 mila dollari in più dai che coi fan ci siamo dai che coi fan ci siamo devi dare più fan perché sennò rischi di perdere l'ultima l'ultima settimana ed è una cosa che volevo dirti da un po boss e dimmi c'è uno stufo di fare sempre il bravo ragazzo sarei molto più produttivo se potessi dire al pubblico e all'altra superstar cosa penso veramente di loro e non gli piacerà soprattutto a kane che ne pensi vuole un cambio di ruolo questo qua io lo faccio fare no vuole un match contro kane no però è cambio di allineamento entro tre settimane esatto e cazzo ma mancano due settimane alla fine e face vuole dire due settimane è tutto finito e ho capito però cazzo se mi fai fare il promo questa settimana è arrivato avresta al mania forse si vede uno spiraglio di figa cosa dice la risposta no oppure io organizzo un cambio di no daglielo ma si dai non sopporto di aver perso il mio titolo la settimana scorsa visto che nei miei diritti voglio sfruttare la clausola del rematch voglio un rematch per il titolo contro becchi nessuno dovrà averlo prima di me secondo me puoi fare ancora lo stesso main event settimana scorsa pepe non sta guadagnando tanti fan perché ne ha già molti però sta facendo un ottimo lavoro perché sta racimolando un sacco di soldi riscatto il main event di smackdown non avevo più le gambe l'obiettivo del commissario è assicurarsi che charlotte realizzi un promo questa settimana quindi non so se potrà fare anche il main event allora intanto qua secondo me è già scritto il main event di smackdown però riscatto guarda là guarda là l'encefalogramma piatto però e io salgo un po' eh no ho sbagliato eeeh che distacco scusa vai a diario dove hai diario? ah non aveva più le gambe l'obiettivo del commissario è assicurarsi che charlotte realizzi un promo questa settimana quindi non so se potrà fare anche il main event ma non posso fargli fare ostrega perché? è che lei vuole la rivincita centro benessere 3 puoi fare anche a me vuole la rivincita però esatto come dice lui ti dà centro benessere manca una settimana prima di show vabbè puoi anche non rispettare la promessa quindi vado avanti vorrebbe vedere un attimo il roster con le rivalità allora andiamo a vedere il roster puoi non rispettare la promessa allora abbiamo Becky Lynch in rivalità con Mandy Rose di livello 3 Undertaker e Kane contro Chester e Balor livello 1 Eddie Guerrero con Tibar livello 2 Charlotte Flair con Sasha Banks di livello 3 e te le ho dette tutte prova a scendere ah perché non le ho dette tutte in ordine ah ho detto quelle che c'erano ah quante ce ne sono? eh non è che le rileggo due volte ah ok allora io devo fare ti faccio fare 5 stelle mai non aveva più le gambe Finn Balor contro Undertaker per il titolo Hell in a Cell riduce la probabilità ci sta eh ci sta eh di una superstar in un match blocca a campione non lo faccio per la Slamania eh però lo devi farlo questa settimana se lo fa adesso va da fare questo boh provo a leggere impedisci? però però nello show per me non vale nel pay per view lo so campione nello show della prossima settimana e non so se vale la Slamania non funziona nel pay per view quindi ti comincia a usare la settimana scorsa perché se lo usi adesso mi sa che questa settimana non vale vabbè ormai usalo intanto non vale più niente meno male mi è nata bene forse una cosa Pepe ingaggia due leggende che tanto hai tanti soldi e fai nascere una rivalità tra loro due vabbè ma manca una settimana a Slamania? a Slamania ci sono cinque match hai gente che non ha più energia te non serve però neanche far nascere la rivalità che mancano due settimane se ti va a livello 1 e basta sfruttare quelle che hai secondo me eh ma no io non ti ascolto te cosa vuoi da me no che cazzo fa comprali comprali allora abbiamo l'imbarazzo figa macio ma incontro alcuni o altri mettuori è figa sta un cool contro Bredard ma non costano tanto ma si facciamo questi due ragazzi spacchiamo spacchiamo a Slamania ne vedremo dalle belle orco porco non ho guardato però c'erano hero face eh cazzo non lo so va bene compri un altro va indietro 140 mila dollari lo faccio andare a vedere vai indietro nel tuo roster organizzare lo scione al roster vai gestici i roster acqua due face eh due face allora i soldi li hai compri due hill e fai match tag e forse ancora meglio e poi tieni le rivalità e fai uno contro uno hai già fatto due match al West Armenia cioè adesso tu fai due contro due eh e fai la rivalità poi mantenendo le rivalità li mandi uno contro uno nello stesso show ah per Stelmania eh ma adesso fai tag due contro due ma così mi mangi i soldi ragazzi cazzo ma è 540 mila dollari scatol devi prendere Kevin Kevin esce scatol eh dove li abbiamo qua il JBL eh devi guardare anche il ruolo eh sì ma mi piace perché c'è scatol qua e c'è scatol lui direi ma lui è scatol l'NWO ho capito ma nel cosa però aspetta ti dice Racket Hall dice inverti e fai diventare i leddi come ti ha detto e ti bar face così prosegui con la rivalità che tra i due che è buona a livello 2 eh ma mi tocca ok intanto devi prendere due combattenti combattenti quindi scatol e Big Boss Man dov'è ah Big Boss Man è là sopra sono gli unici perché sono gli unici perché sono gli due combattenti per il perché gli altri sono due colossi vai però anche Teddy Bias potrei perché specialista va con tutti e Jolly vero mi avete fatto prendere scatol che era meglio Big Boss Man e Teddy Bias pazzo la fretta era fretta però non te li segna bene come te li segna eh no te lo mette che va bene però non è perfetto però se prendi due combattenti è meglio perché la specialista non lampeggia mai di azzurro invece se metti le cose contro giusto lampeggia di azzurro vedi che comunque specialità match mette i punti di domanda devi trovarla tu no perché alcuni non ce l'hanno no devi trovarla tu se lo fai lottare te i boys dopo lui ti invia la mail se fai quel tag team qua hai vinto dicono eh non dico io e qua mi tocca mettere qua mi tira sulle stelle ragazzi mi rovina i grafici qua adesso questa cosa allora domanda è meglio mettere le quattro leggende come opener io questo qui però è un compotto tutti contro di me qua o va bene mettere nel midcard c'è un mille contro di me io devo scegliere da solo secondo me io metterei midcard e aprire col botto con le leggende lascia così lascia così dicono tutti di lasciare così mettili nel midcard vabbè ragazzi se mi fate fare un match di merda guardate che vi confermiamo quanto ho speso 110.000 ehi l'ho comprato io adesso lui se ne va di qua siccome non può stare in due roster però 15 settimane non è mai arrivata una mail di un wrestler che se ne va ma perché è tutto bagarre che tristezza adesso amici sotto a dare consigli a Jack però Booker T sta boicottando sono tutti stronzi sta boicottando Robo Booker T perché non si trova bene è in disaccordo col GM Booker T sempre però è sempre in disaccordo col Jack ma certo te l'ho dato ma vaffanculo però tu sei troppo negativo grazie al cazzo che poi perdi più rilassato ancora qui questo ma Dio ma Dio al momento non mi sento al 100% a 9 di energia Robo non lo accontenti lui si vendica così fa finta di stare male si pure le vacanze vuoi sta a casa manca una settimana alla fine del gioco posso prendermi due settimane di vacanze grande Booker sei un grande Booker è fuori di testa questo cazzo incredibile incredibile dai rispondigli qualcosa prendi sta cazzo di settimana io la dà anche io la dà anche porta la puttana gliela dà gliela dà Sonia nel frattempo che quest'uomo prepara la sua cardio vi faccio un breve recap di quello che succederà mercoledì 13 aprile tra meno di 48 ore torneremo in live su Twitch per concludere la MindGM concludiamo la settimana ci fermiamo mercoledì porto il mio controller e giocheremo a Vrestelmania a Vrestelmania definitivamente definitivamente finisce la prima stagione della MindGM e definitivamente avremo il primo crossfit campione in assoluto sempre mercoledì porteremo avanti lo showcase di Rey Mysterio mancano tre match non so se riusciremo a concludere anche lo showcase ma ci metteremo tutto l'impegno del mondo fine settimana arriva il meglio delle live grazie ai montaggi di Jack e di Mere showcase e GM il meglio di quindi se non siete in live e se come temo finita la live di questo video verrà mutato potete comunque trovare il tutto anche su YouTube settimana prossima non ci troveremo lunedì perché è lunedì di Pasquetta sia noi e voi saremo a fare qualche grigliata quindi settimana prossima le live sono due giorni consecutivi martedì e mercoledì la stessa cosa martedì e mercoledì sarà anche la settimana dove il 25 aprile è lunedì è festa io non ci sono sono via tutto il giorno non andando al lavoro quindi da mercoledì che ci siamo per le prossime due settimane le live su Twitch sono martedì e mercoledì poi torneremo al canonico lunedì detto questo siamo a posto non è necessario che voi vi abboniate al canale Twitch durante le dirette potete farlo in qualsiasi momento della giornata se vi abbonate a Twitch il costo è 4,99 euro se siete possessori in un account Amazon Prime è completamente gratuito perché è molto importante per voi abbonarvi al canale Twitch degli Abusive Game perché al raggiungimento dei 350 abbonati in questo momento siamo a 96 ovvero al 27% di quanto vi chiediamo al raggiungimento di 350 abbonati concorrerete all'estrazione per poter vincere una nuova di pacca Xbox Series X quindi solo questo vale la pena spendere anche i 4,99 euro con questo vi dico che c'è gente che nei messaggi privati dei nostri social ci chiede ma non terminerete mai più It Takes Two ovviamente sì ma come ho sempre ricordato le live di Twitch al momento servono perché stiamo seguendo un po' l'onda del gioco nuovo il gioco nuovo ci dà un po' di boost in più e quindi giustamente essendo noi youtuber essendo noi streamer ci fa aumentare la popolarità cavalchiamo l'onda io se volete vado avanti a parlare ancora per mezz'ora senza nessun problema finché la card di Smackdown non sarà pronta vi ricordo dirò non sarà pronta vi ricordo che questa è l'ultima settimana prima di terminare la MyGM prima di arrivare a Vrestelmania sì come modalità mi fa schifo perché se la paragono a Smackdown vs. Raw 2008 fa schifo però secondo me poteva andare peggio secondo me questo può essere l'inizio di una MyGM fatta un po' meglio l'anno prossimo allora lo fai questo cacchio di mezzo sì è pronto pronti il DA è la promessa del GM la promessa non la faccio interferenza anche lui un altro centro benessere tanto chi se ne frega conferma ste cacchio dai un attimo ti hai messo 87 minuti tu esatto figa no io ci ho messo poco a fare il mio ma dio perché adesso li faccio e lui che sta sudando freddo adesso a fare i suoi che se la viene brutta perché si vede un po' in difficoltà vai devi confermare su schiacciali conferma oh la allora amici guardate qua me l'avete detto voi aprire con Becky e Mandy perché c'era una bella rivalità se non è così mi ha messo stream rules se non è così vi massacro tutti eh eh buono cambio di ruolo per lui vediamo un po' per lui che è Eddie Eddie va bene dai ragazzi e qua il grande match delle leggende quanto hai fatto un match iniziale tre tre se mi alza le stelle ragazzi vi giuro che non vi ascolto più per nessun motivo ormai è finita ormai no no ho capito ma non non starò più con i miei fan ecco e già qua mi avete deluso ho detto io che quel match qua era un match da apertura col botto però hai fatto come il primo eh però perché ho messo la rivalità se ne avevo messo in interferenza se non facevo interferire era un botto questo che fa anche lui il cambio e siamo arrivati al main event scelto da non aveva più le gambe questo sale sicuro è in SL speriamo cazzo però questi si infortuniano eh va non è in SL l'energia che ci vuole è tanta Balor tecker infortunato eh lo sapevo è in SL tecker infortunato non aveva più le gambe quattro stelle in mezza hai fatto non aveva più le gambe si parte con la rivalità Raquel Gonzalez contro Tristratus Tristratus mantiene straordinario mai vedere la pelle all'orso prima che sia morto Brock Leiser fa un po' di beneficenza buono più 5000 aia sale i fan tag team match Randy Orton e Shawn Michaels contro Drew McIntyre e Andre the Giant sempre rivalità non può fare più dell'opener non può ah Dio se faceva più dell'opener giuro non giocavo più 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 lo zio Walter che porta i ravioli e fa la pubblicità scarso figa eh va bene 9 9 è scarso figa 9 mila main event e stream rules senza titolo forse era meglio metterlo e guarda un calo guarda che calo come faccio io avrei messo il titolo oh però porco porco però mai vendere la pelle all'orso prima che sale la rivetta ragazzi ro se ci volevano ancora due settimane forse lo prendevo Smackdown vada lì porco porco incredibile organizzazione porco porco niente ma organizzato un ottimo show in cui match iniziale e main event hanno creato un inizio e una fine memorabili con match che hanno ottenuto valutazioni molto alte stratus e gonzalez livello 4 se guardo le stelle ha vinto Smackdown fortunato taker due settimane però forse c'ha la cosa non ce l'ho non ce l'ha e dovrà comprare poi vabbè quella rivalità livello 1 è partita e niente con quella fai già due match avresti almeno scarsissimo Smackdown scarsissimo no no scarsissimo no perché ha fatto più stelle di te comunque non ha fatto niente questo show c'è non rivalità andiamo avanti vediamo qualità show C qualità programma match B più 20 di fan e più 37 di soldi ha vinto Smackdown di mezza stella non io di mezza stella eh se guardo le stelle dei match e faccio la somma pareggio qua dicono vabbè comunque più 20 e più 37 e comunque più 29 sono ancora un primo eh perché è uscito fuori la graduatoria 1 sono ancora primo ancora primo di 60.000 fan circa vabbè dai ho fatto molti più soldi guarda che 60.000 fan a Vesterminia possono ribaltarsi si fa fatica si arranca però piano piano di 5.000 alla volta restelmania anzi non guardiamo il grafico è ormai è il tuo questo grazie mille per avermi fatto fare la figura del buffone davvero molto gentile ma sei scemo warrior me ne ricorderò la malvagità che impersonifichi e rappresenti è tollerabile ma vai comprali comprali ha speso una sfrega di soldi per fare uno show ma dai mediocre ma è arrivato una settimana fa ma vaffanio è Booker T 2.0 questo colpa dell'interferenza di comunque giustamente dicono spendete tutti i soldi si va bene cosa vuole questo che potrei fare ancora di più per il brand che cazzo vuoi fare mi hai fatto un cazzo allora ho sbagliato a leggere io ho fatto mezza stella in più e che cavolo mi sembra normale a combattere il main event sarebbe uno un passo molto importante per me e la mia carriera per essere il migliore bisogna battere il migliore che ne dici? il main event di Vettelmania Ric Flair nei main event è Balor sicuro e abbiamo quanto dura questa cosa qua perché è il campione devi farlo per forza no basta di no ma io non ho così tanti wrestler cinque match vai organizza su cinque sono mica sempre stati quattro cazzo cinque match e quattro promo corco di eagle tu hai quattro leggende due match li hai già fatti Balor nel main event e spendete tutti i soldi basta ah il commissario non ha più obiettivi da segnarti questo sarà il tuo ultimo studiate avete 48 ore per arrivare preparati ah ascolti 60.000 fan avreste almenia e si recuperano lui è salito un po' con i fan teoria il coltello della palla del manico ce l'ha Sbagdown Sbagdown può solo perdere arrivate preparati mercoledì secondo me vince Sbagdown ma perché ad oggi è avanti però tutto è ribaltabile quindi ragazzuoli per oggi è veramente tutto faccio la chiusura per youtube dai dai vi ricordo che facciamo di lasciare un voto a questo video di iscrivervi al canale sempre se vi vesce e non l'avete ancora fatto e se siete trepidanti come me di vedere il finale della MyGM fatecelo sapere oltre che sulle live su twitch nei commenti sotto i video di youtube su instagram telegram facebook e twitter e chi più ne ha più ne metta dai che andiamo a raidare Violet no no di senso dai basta mi sono tutti i coglioni per oggi è tutto dall'artefice Jack lo specialista Michelle dai rimetta a Peppino alla prossima ciao belli ciao Violet vincerà Jack han detto ragazzi miei pensa che considerazione che hanno 57% perché ma come faccio vincere se sono ah è certo 57 perché lui ha il 43 43 cazzo banane quindi ragazzi ci vediamo marco c'è rimasto male che ha perso il sondaggio ho capito adesso che è il sondaggio che è il sondaggio Grazie a tutti.